Wunderer 17 giugno 2011. Saluti dalla federazione. Come voi avete un modo di dire dicendo, non riesco a rimanere nella pelle per l'entusiasmo, l'evento della divulgazione non ha incontrato qualcosa che potrebbe portarci a ulteriori ritardi o deviarci, anche temporaneamente, dai nostri piani. C'è molta eccitazione qui, che possiamo finalmente, e brevemente, essere in cammino nel processo, verso il nostro incontro e in movimento verso l'ascensione. Le attività qui sono elevate. Ognuno ha la sua missione, e tutti sono impegnati per interagire e mettere in atto, ciò che è necessario, per far sì che le porte si aprano. Attendiamo la parola divina al cenno finale, che ci permetterà di mettere in moto, ciò per cui abbiamo pianificato da tempo. Vi ricordiamo il vostro scopo, in questi giorni a venire, di mantenere calmi gli altri, e discutere con coloro, che non sono in conoscenza di ciò che questi eventi realmente significano, e come voi siete stati attenti, per molto più tempo di quanto hanno fatto loro. Voi potete, tramite i vostri esempi di amore e compassione, insegnare la verità del nostro aspetto, quando ci riveleremo a voi successivamente alla divulgazione. Contiamo su di voi per mantenere la rotta, e diventare gli insegnanti di amore attraverso, il buon esempio, incondizionatamente e compassionevolmente. In questo modo, è possibile tranquillizzare chiunque, attraverso l'annuncio del primo contatto, e veramente rivelare voi stessi come gli operatori di luce che siete. Semplicemente, noi vi amiamo. Grazie per tutto il vostro lavoro in questo impegno, e per un lavoro ben fatto. Siate in pace. Grazie. Grazie.